Sì, ecco. Mmm. Che bel pezzo di carne. Non lo so, mi sono sempre piaciuti queste cose. Secondo me sono buone quando le vedo. Vedi quella carne è bella. Ci chiamano, ma non mi stia a ciecare. Grazie. Madonna! Che cazzo tocchi che c'hanno? Ti sembrano gli angeli. Ma io non posso fare niente. Lo so, lo tocco pure io. Sì. Ah, scusa. Non so che cazzo. Dai, andiamo qua. Ah, lo so. Il poliziatto che picca gli iaoli. C'è quello che ha partito. Madonna! Questo è un dato? Cioè... No! 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 Ero, no! 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 Ah c'è, direi due, ah direi due, no Dio, pare che si è rotto lo schermo Pare che si è rotto lo schermo Cioè ho detto immagino che si è rotto lo schermo Ma io, vediamo un'altra, come va Volevo un matto C'è un'altra, come va C'è un'altra, come va C'è un'altra, come va Then back Ah, questo non è uno ma si fa pure meno ah ok cioè io dovrei solo rimanere là sopra mi sono rispostato ma sono morto no 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 che morte di merda però oddio ragazzi che morte di merda cioè è bruttissimo davvero questa energia di schiacciatura e mezzo madonna c'è piano piano tutto eh piano piano capiti vedi quello che ti si sframmarca ma oddio 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 Vabbè contro te? Oddio, mi sono letteralmente cagato in mano, oddio, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, no, 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 vaffanculo, vaffanculo sto pesce di merda, guarda se si sveglia quello, vieni qua, 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 vieni qua che cazzo di spettacolo no, ho fatto una bruttissima fine, ho smaggiato da uno squalo che palle quella non salzava mica mi ha sicuramente rimanesso ridotto che palle no, l'ultima, l'ultima gri me la stessa macchina me ne vado sì una cosa diversa non lo so, bo, che ti parlo ma perché questa ho visto come questa mappa dico, è un po' meglio delle altre è meglio, dici sì, sicuramente sì, perché almeno ci sono pure le squadre che vanno un po' più cose sì, sì, va bene questo va bene questo scusa no da pazzi dice un po' no no da pazzi io pensavo che eri tu e vivi ero io questo che scusa io sto fuori e qual era questa un momento di sì no da pazzi peschereccio io leggevo parcheggio io ho letto parcheggio prima poi prima era gang io qua ho letto peschere parcheggio io ho pensato peschereccio c'è c'è stato ma io spero che ci siamo a tremare per un video Maggi! come cazzo si mena qui? ehhh eh? si andremo uno andremo uno andremo uno noo 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 ahhh ma non mica che cazzo che balle noo si noo ehhh e mai mai nè e' sottotone dovrebbe cosa non ci ho pensato noo 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 figlio di puttano noo 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 Difficilissimo, è impossibile. Prendiamo un squat. Wow! Così dentro dentro. No, 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 vaffanculo. Vaffanculo, vaffanculo. 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 Senta che quello è bruttissimo quello. È pelato. No, no! No, 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 no. Meglio, ti voglio, voglio, voglio. freddo l'ha detto che ci si c'è la miseria, ah no, oh no, questi volano pure no, l'ho salvato, ecco, 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 no, avanzi, basta super, no, avanzi, mai che lo scolo sta contro l'altro, lo scolo sta contro l'altro, lo scolo sta contro l'altro che cosa, no, ti sei spostata, no, ho visto, ho visto c'è pericolata 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 oddio oddio guarda quell'infame a che se ne va quell'infame di squalo fai un muro eccola cina che non ho oddio oddio c'è una miseria caro Oh oh che pi than di non ci provai Dovai? Oh madonna! Sì, non sono stato io, sei raggirato come un matto! Sì! 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 Oh! No, io almeno una, qua! Fan cuglio! Oh no, guarda che bastardato! Ma che cazzo sta fastanando io? Oh! Ma sai che loro abbassano? No! Quelle leve! Boh, che cazzo! Faccio l'ultimo crit e basta proprio! Cazzo! Oddio! no da pazzi guarda che figlio di puttana questo pezzo di merda non lo fai non lo fai guarda che è passato grande figlio di puttana no niente niente volevo però entrare dentro non ci stavo andato sbagliato guarda questo come è rimasto bello